Ragazzi prima di iniziare con il video vi dico che il falso è tornato e sta commentando con l'account di Marco Terenghi Quindi ragazzi se vedrete delle risposte a questo video nei commenti con Marco Terenghi non rispondete perché non sono io Che vi farò gli auguri direttamente da qui, avete capito? Bene, detto questo iniziamo con il breve video e con gli auguri Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero bene, oggi è Natale, Natale, felice Natale a tutti voi ragazzi Spero che passerete una bellissima giornata anche se con questa situazione non è che si possa fare tanto Comunque vi auguro la miglior giornata possibile, buon Natale a tutti ragazzi 25 dicembre 2020 E speriamo anche che l'anno prossimo sia un anno decisamente migliore Auguro anche buone feste a tutta la vostra famiglia Ragazzi mi raccomando divertitevi, fate di tutto di più anche se si può stare a casa Cercate di fare quello che potete divertirvi il più possibile E niente, anch'io qua a casa vedrò come passare il Natale innanzitutto la mattina aprendo i regali Se li avete anche voi da aprire ragazzi qualcuno scrivetemi nei commenti cosa avete ricevuto Se siete contenti, niente, io vi auguro un gran buon Natale Vi dico anche grazie mille per tutto il supporto che mi state dando Ma poi proprio buon Natale a tutti, visto che non vi risponderò nei commenti A tutti i miei iscritti da Marika, a Metti Supera, a Davidefo Tutti tutti ragazzi, MarkInt17, MarkiMarco05Inter, tutti tutti, Pietro Calcio Tutti tutti, buon Natale a tutti e alle vostre famiglie ragazzi Passate una splendida giornata, capito? Mi raccomando divertitevi, anche se siamo a casa dovete divertirmi Perché il giorno del Natale è un giorno bello Vabbè ragazzi, ecco gli auguri Vi auguro di nuovo, nuovamente, per l'ultima volta un buonissimo Natale E niente, direi che ci becchiamo alla prossima Non vi chiedo neanche di lasciare like perché è Natale Se volete non lasciate like perché è Natale Si può fare quello che si vuole Quest'anno, tranne che uscire Vabbè ragazzi, ciao a tutti e ancora buon Natale Ciao